Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di oggi sponsorizzato da The Trading Pit, prop firm numero uno in Europa in questo momento e organizzato per dare il benvenuto nella nostra squadra a un grande trader, un grande programmatore e ideatore di strumenti automatici per il trading. Questa sera Filippo Giannini che è il nostro ospite d'onore appunto con il quale abbiamo iniziato una collaborazione ci parlerà un po' dei suoi sistemi automatici e di come li ha già utilizzati per passare challenge The Trading Pit. Allora io ho abilitato la chat quindi vi prego di scrivere lì le vostre domande. Angela Selbert is asking whether or not the webinar is going to be in English. No, this is an Italian webinar for the Italian public, for the Italian audience. Perciò possiamo andare avanti e prima di tutto vorrei prima di dare ufficialmente il benvenuto a Filippo a farvi vedere The Trading Pit cos'è chi è diventata dall'inizio della sua storia che è datato inizio 2022. Inizio 2022 ma in questa breve carriera possiamo dire una dirigenza di altissimo livello è stata in grado di organizzare un'attività che sta già producendo dei grandi risultati non solo per l'azienda ma anche per tutti i trader che hanno deciso di collaborare con noi di lavorare più che altro con noi perché The Trading Pit appunto come tutte le altre prop firm ci dà la possibilità di avviare una carriera personale come prop trader. Lo fa però in un contesto sicuramente che si mette in luce rispetto ad altri. Innanzitutto abbiamo una dirigenza di altissimo calibro come dicevo Illimar Mattus fondatore e titolare e anche potete aprire il suo bio sul sito e anche il CEO di Tickmill che è uno dei broker più importanti d'Europa. è una persona con un'esperienza e una reputazione di altissimo livello e la sua presenza così come quella di Christopher Decker e di altri elementi come Prodromos che è il tecnologo che viene addirittura da Merrill Lynch Bank of America ma anche il CEO generale che ha un'esperienza ventennale nel settore del trading della consulenza a livello istituzionale per fondi gestori di denaro in questo genere. Poi tutto il team hanno veramente una reputazione da difendere e questo ci dà fiducia che la società sarà con noi a lungo hanno dei piani di espansione estremamente interessanti sono qui per restare. Sappiamo che nel settore del prop trading l'affidabilità della controparte è assolutamente di primo piano tra le considerazioni che ci portano a sceglierne una. In questa brevissima carriera The Trading Pit ha vinto diversi premi come la migliore prop per i future nel 22, la più affidabile in Europa nel 22, la più in rapida crescita sempre in Europa, la più trasparente nel 23, brand dell'anno 2023 e via dicendo. Quindi come vedete in breve tempo un team vincente è in grado di fare la differenza e di affermarsi molto rapidamente. Poi abbiamo le sfide e qui arriviamo alla parte che ci interessa e sulla quale Filippo Giannini può aiutarci, aiutarvi con la sua professionalità, con l'esperienza che la sua carriera l'ha portato ad avere e i frutti che stasera vi mostrerà Filippo. Allora, particolarità di The Trading Pit è una delle poche prop firm che vi danno la possibilità di passare sui CFD delle sfide in una fase solamente. Quindi a seconda del piano che scegliete, con un 10% o un 8% di performance potete passare direttamente all'account funded e avete 90 giorni di tempo, che è assolutamente un tempo più che sufficiente per realizzare questi obiettivi. Non solo, ma poi abbiamo i piani di scalata del capitale. Come sapete nelle altre prop far crescere il capitale in gestione è molto molto complicato. Qui invece diciamo che il percorso vi dà proprio la possibilità di sbloccare anche rapidamente capitali sempre più grandi da avere in gestione. Vi faccio l'esempio del percorso che parte dalla challenge sui 100.000 euro e come vedete qui da superato il primo livello, al quale si accede dopo il passaggio della challenge, andiamo subito da 100.000 a 150.000. Quindi una volta che iniziate il percorso funded siete a un 8% di distanza qui da un aumento significativo del capitale. Sapete già alla fine di ciascun livello, al superamento di ciascun livello, quanto verrete pagati. Ipotizziamo di concludere tutto il percorso da 100k, il VIP, sarete stati pagati una cifra che si avvicina a 570.000 euro. Anche il piano da 50.000 che come vedete dopo il primo livello porta al raddoppio del capitale in gestione. Alla fine del percorso vi avrà dato grandissime soddisfazioni in termini economici. Anche qui se nella fase di challenge dobbiamo fare un 10%, qui siamo ancora una volta all'8% di distanza dall'aumento del capitale. Qui potete arrivare fino a un milione in gestione, sul VIP fino a 5 milioni. Naturalmente ci sono offerte per tutti. Chi si sente più a suo agio a gestire dei conti più piccolini naturalmente può investire su light o standard. Quello che conta è che c'è una carriera che ci si prospetta, possiamo passando i vari livelli avere soddisfazioni sempre più interessanti. Abbiamo anche un reparto future molto interessante, abbiamo piattaforme tra le migliori che ci sono al mondo. Atas, Quantower, Rhythmic, Volumetrica. Insomma avete la possibilità di scegliere voi come fare il vostro percorso. E detto questo, qual è la cosa che può mancarci come trader? Il supporto di qualcuno che abbia esperienza, che sappia già come funzionano queste prop, che le abbia già passate e magari qualcuno che ci possa mettere a disposizione degli strumenti che ci facilitino il percorso, non solo il passaggio della challenge, ma poi anche la gestione del conto funded. Ed è qui che si inserisce il nostro ospite di questa sera, che mi sopporta da un po', e con il quale mi sono già scusato privatamente e pubblicamente per questo ritardo che non è purtroppo di peso da me, Filippo Giannini. Ciao Fabrizio! Ciao, mi senti? Sì, sì, che piacere averti qua. Ti chiedo perdono. Purtroppo ogni tanto succedono questi incidenti di percorso, però siamo qui, il nostro pubblico c'è e tanti e tanti rivedranno la registrazione di questo evento. Benvenuto. Perfetto, sì, grazie. Ci mancherebbe, diciamo, ecco, purtroppo gli inconvenienti capitano e quindi ecco, però è importante essere riusciti ad esserci e io da parte mia, anch'io do il benvenuto a tutti. Mi fa estremamente piacere essere ospite di The Trading Pit, quindi come ha detto Fabrizio, è iniziata questa collaborazione, ma ecco, su questo non mi dilungherei troppo, visto che hai già, diciamo, ecco, fatto una bellissima presentazione tu del progetto che abbiamo insieme, quindi per me, quando vuoi, io sono pronto a partire. Sì, sì, la scena è tua, ti do la possibilità di condividere lo scherbo. Se ci vuoi dire proprio due parole sulla tua carriera prima di procedere e magari condividi già il tuo schermo, così iniziamo a guardare le tue slide. Ok, dovremmo esserci. Perfetto, vediamo benissimo. Appunto, come vedete, signori, questa sera Filippo ci mostrerà come lui è in grado di passare le challenge con i sistemi automatici, io l'ho visto in azione e vi assicuro che c'è tanta sostanza nel lavoro di Filippo, quindi apriamo bene le orecchie a partire da me perché ne vedremo di interessanti questa sera. Vai Filippo, adesso non parlo più. Grazie mille, grazie mille Fabrizio. Ecco, sì, beh, io mi presento molto velocemente. Io di formazione sono un ingegnere, poi mi sono dedicato ormai svariati anni fa al trading e quindi sono arrivato, ormai sono quasi 15 anni che opero sui mercati finanziari come trader indipendente. Sono diventato socio professional della SIAT, della Società dell'Analisi Tecnica. La mia operatività, come poi vedremo tra poco, è un'operatività quasi esclusivamente automatica, quindi il mio approccio ai mercati è, diciamo, dal punto di vista operativo, affidato, tra virgolette, a dei trading system, quindi a dei software che io personalmente ho ideato e validato e quindi, diciamo, ecco, è attraverso questi mezzi che approccio quotidianamente ai mercati finanziari e ho approcciato anche alle challenge di The Trading Pit. Ormai, ecco, qualche mese fa è partita, diciamo, ecco, questa idea, diciamo, ecco, di mettere in piedi questa collaborazione e soprattutto capire se i miei sistemi potessero essere adatti a questo tipo, diciamo, ecco, di challenge e, insomma, mi fa piacere questa sera condividere con voi i risultati che abbiamo ottenuto fin qui e quindi, ecco, poi, tra poco, diciamo, entreremo nel vivo dell'argomento di questa sera e quindi vedremo quali sistemi ho utilizzato, che tipo di approccio ho avuto e quindi, ecco, vedrete un po' tutto quello che ha riguardato e che riguarda, diciamo, ecco, questo progetto di, appunto, superare le challenge attraverso i sistemi automatici. Io velocemente vi lascio i miei contatti, la mail generale è infochiocciolatradingfacile.net la mia mail personale è filippochiocciolatradingfacile.net sotto l'hashtag tradingfacile ci trovate anche sui nostri principali canali social quindi l'invito è quello di iscrivervi al canale YouTube, canale Facebook, canale Telegram dove pubblico, a volte quotidianamente, a volte settimanalmente, tanti contenuti gratuiti contenuti gratuiti che trovate anche sul nostro sito noi siamo una squadra di trader algoritmici il sito di riferimento, come detto, è tradingfacile.eu qui trovate tutto l'ecosistema di tradingfacile quindi tutti i sistemi gratuiti ma anche, come detto, tante guide quindi tanto materiale gratuito sia, diciamo, per guide per approcciare al trading online ma poi tanti video, tante news quotidiane con la view sui principali mercati quindi tanto materiale poi, come detto, per qualsiasi tipo di informazione trovate anche sul sito tutti i recapiti ai quali contattarci e seguirci quindi, come detto, tema di oggi superare le challenge con i sistemi automatici quindi vedremo, diciamo, come è stato questo approccio alle challenge la composizione di un portafoglio tipo quindi quali caratteristiche hanno avuto queste strategie e anche, insomma, che tipo di money management viene utilizzato e poi, insomma, ecco, c'è sempre spazio per domande e quindi sotto questo punto di vista invito magari, ecco, Fabrizio, se mi dà una mano con la chat qualora dovessero arrivare delle domande insomma, avete dei dubbi insomma, ecco la... Esattamente, Filippo, ci sono io e ti riporterò le domande che arriveranno e nel frattempo rispondo anche a quelle direttamente sui trading pit che venissero fuori Ok, ok, perfetto quindi, come ho detto all'inizio l'approccio a queste challenge di trading pit è stato effettuato utilizzando esclusivamente strategie automatizzate penso che ormai tutti sappiano che cos'è un trading system automatico non è altro che un software che è costituito da un insieme di regole quindi un codice e appunto questo software è in grado di eseguire e gestire degli ordini a mercato in tutte le fasi quindi è in grado sia di aprire e chiudere ma anche di gestire un ordine secondo quelle che sono chiaramente le regole predefinite Perché appunto l'approccio con i trading system? Perché, diciamo, questo è l'aspetto questo è anche il motivo per cui nel corso degli anni poi ho deciso sempre di più di automatizzare tutte le strategie che magari alcune delle quali utilizzavo anche in manuale perché è possibile misurare attraverso dei backtest preliminari la bontà o meno di una strategia poi è chiaro, nessuno ci dà garanzia che le strategie che utilizziamo oggi continuino a performare anche in futuro ma questo chiaramente, per prima cosa, questa è una regola valida per qualsiasi strategia quindi sia essa una strategia automatica oppure una strategia discrezionale poi è chiaro che se non è, diciamo, detto che poi se una strategia performa in backtest sia in grado di performare anche in reale ma è altrettanto vero che se buttiamo giù un'idea e quest'idea una volta codificata e testata non riesce fin da subito neanche in backtest a dare dei risultati apprezzabili beh, è altrettanto improbabile che la stessa riesca a performare una volta a mercato del denaro reale quindi diciamo ecco che attraverso l'attività di test preliminari abbiamo già una idea sulla bontà o meno della nostra strategia questo personalmente ritengo che sia molto importante poi l'altro vantaggio è quello di poter applicare simultaneamente diverse strategie su molteplici mercati perché questo è un aspetto che insomma alcune volte non riusciamo diciamo a gestire quando operiamo indiscrezionale perché magari stiamo osservando, monitorando uno specifico asset magari in attesa che scatti il nostro trigger d'ingresso ci perdiamo magari delle occasioni su altri mercati proprio perché diciamo ecco non siamo magari in grado di monitorare costantemente molti asset poi con i sistemi automatici evitiamo errori o in osservanza di regole perché chiaramente il sistema tra virgolette nella sua diciamo stupidità se così vogliamo dire esegue sempre insomma ecco quelle regole per cui è stato programmato quindi diciamo ecco non avremo sicuramente errori o in osservanza di regole eliminiamo il fattore psicologico perché chiaramente non c'è in questo caso l'emotività di entrare magari ecco su determinati livelli in determinati contesti dove magari la volatilità sta aumentando ci sono delle news eccetera quindi siamo magari un pochino resti a effettuare determinati operazioni chiaramente il sistema automatico non risente diciamo di questi fattori e poi come detto tutte le decisioni sono pianificate ed effettuate prima di entrare a mercato perché come detto abbiamo già backtestato le nostre strategie in ultimo c'è anche una maggiore velocità di esecuzione degli ordini e questo insomma ecco sia perché chiaramente il sistema riesce a una volta diciamo codificato un determinato pattern un determinato segnale riesce diciamo non ha esitazioni quindi non appena diciamo viene completata la figura il pattern il segnale di riferimento l'ordine viene mandato a mercato ma anche per un altro motivo perché poi magari su questo ci torniamo ve lo faccio anche vedere quando si lavora con i trading system tipicamente si lavora con delle WPS quindi delle WPS che sono delle virtual private server quindi dei computer virtuali e l'obiettivo insomma ecco di quando si va ad acquistare diciamo queste macchine quando ci si dota di questi ausili è quello di avere comunque una latenza bassissima quindi quanto più bassa possibile e avere una latenza molto bassa significa diciamo avere un ordine che viene eseguito in maniera istantanea a mercato cosa che chiaramente non ci possiamo aspettare se lavoriamo dal nostro pc di casa con una comune connessione a DSL quindi approccio di trading system anche per un altro motivo perché in quello che è il contesto operativo attuale a mio modo di vedere e questo diciamo chi mi segue sa che è un concetto che ho ribadito diciamo più volte l'analisi tecnica chiaramente continua ad avere una valenza quindi continua ad essere valida e affidabile nel costruire strategie di trading nell'identificare punti di ingresso e uscita però specie quando come in questo caso abbiamo comunque sia un orizzonte di tempo limitato per mettere in pratica le nostre strategie questo significa diciamo lavorare con delle strategie di breve termine quindi strategie intraday o anche strategie che vanno overnight ma con un orizzonte di investimento di 3, 4, 5 sessioni quindi un orizzonte di tipo settimanale c'è necessità appunto di abbinare i principi dell'analisi tecnica a quella che è un'analisi quantitativa quindi cercare un attimino di capire appunto quella che è la natura appunto del mercato e avere diciamo ecco delle statistiche poi a supporto e quindi valutare appunto la bontà della nostra strategia attraverso le metriche diciamo che sono il risultato dei nostri test quindi applicare dei modelli matematici e statistici ai mercati finanziari cosa dovremmo andare a fare quando andiamo a comporre un portafoglio di strategie per superare le challenge beh a mio avviso due sono gli obiettivi diciamo da tenere sott'occhio ovvero quello di avere un portafoglio che sia in prima battuta resiliente e in seconda battuta chiaramente performante resiliente che cosa significa? resiliente significa poi lo vedremo anche dalle statistiche resiliente significa capace di sopportare diciamo tutte quelle fasi di mercato nelle quali come diciamo sta accadendo anche in questa prima parte dell'anno dove sostanzialmente la volatilità non è troppo marcata dove il mercato non si mostra chiaramente direzionale dove diciamo ecco c'è se vogliamo anche indecisione questo magari ecco chi è trader più esperto vede diciamo ecco tutti i giorni quello che sta succedendo in questo momento dove c'è diciamo ecco indecisione su quelle che sono su quella che ha la direzione da prendere sia per quanto riguarda l'azionario ma anche su altri tipi di asset e quindi diciamo ecco quando il mercato non mostra una volatilità marcata mostra diciamo ecco un andamento tipico del trading range diciamo nella quale vengono comprati supporti vendute le resistenze purtroppo molto spesso diciamo ecco o meglio sicuramente ci sarà ci saranno alcune strategie poi vedremo quali che magari possono andare più in difficoltà ok perché magari diciamo ecco avremmo all'interno del nostro del nostro portafoglio delle strategie che invece sono in grado di sfruttare diciamo ecco dei trend ben definiti quindi diciamo innanzitutto dobbiamo innanzitutto comporre un portafoglio che sia diversificato un portafoglio che sia in grado di attutire queste fasi dove necessariamente non riusciamo ad estrarre valore dal mercato questo purtroppo diciamo ecco è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti ma anche nel breve periodo però perché dobbiamo essere capaci diciamo di tenere botta quando il mercato non è direzionale perché perché comunque lo sappiamo insomma il mercato alterna fasi di contrazione di volatilità a fasi di espansione di volatilità quindi sappiamo che prima o poi diciamo questo equilibrio no di un mercato in trading range verrà rotto partirà un nuovo movimento direzionale e noi chiaramente dovremo essere pronti a sfruttarlo e essere pronti a sfruttarlo nell'ambito di una challenge di trading pit significa attutire il drawdown nelle fasi nelle quali appunto il mercato non mostra direzionalità per essere pronti poi a sfruttare diciamo i movimenti di mercato e quindi le nuove espansioni di volatilità quindi detto questo la strategia di diversificazione si può attuare in due modi chiaramente sia operando su diverse asset class ma anche operando sul medesimo sottostante con strategie differenti e non correlate tra loro ok? e poi diciamo anche qui entreremo un pochino più nel dettaglio nello specifico per quanto riguarda l'operatività sui vari asset gli asset sui quali diciamo mi sono concentrato per per quanto riguarda l'operatività sui trading pit sono stati il forex con il cambio aero-dollaro e poi per quanto riguarda l'azionario DAX, Dow Jones e Nasdaq mentre per quanto riguarda le commodities petrolio VTI e Gold quindi questi sono stati i sei sottostanti su cui abbiamo lavorato su The Trading Pit c'è da dire però che su questi sei sottostanti sono state attivate più strategie quindi abbiamo avuto un totale di 12 strategie automatiche proprio perché abbiamo diversificato non solo su diversi mercati ma anche come detto proprio per applicando diciamo strategie diverse e non correlate tra loro sullo stesso mercato ok? proprio per affrontare diciamo al meglio tutte le fasi sia quelle nelle quali il mercato è più volatile sia le fasi dove invece il mercato mostra un'operatività tipica da trading range quindi le logiche dei sistemi che sono stati inseriti all'interno di questa challenge sono le logiche diciamo le prime due sicuramente le conoscerete che sono le più tipiche ovvero logiche trend following e logiche di tipo min reverting e poi sono state utilizzate anche dei sistemi di tipo bias e dei sistemi di tipo seasonal ora non so Fabrizio se ci sono domande su questo se magari ecco vogliamo approfondire un secondo anche il cioè trend following e min reverting più o meno credo che sia sia assodato magari non so se vogliamo un attimino approfondire il discorso del bias del seasonal credo credo no in questo momento ancora non ci sono non ci sono domande però forse sì tra questi il bias potrebbe essere il concetto da diciamo da da svelare un po' di più rispetto agli altri perché magari c'è non c'è chiarezza su cosa significhi esattamente cioè nel trading perché insomma il termine inglese più o meno lo conosciamo ma potrebbe essere equivocato io stesso inizio la prima volta che lo senti ebbe un'idea un po' diciamo fuorviata ecco di cos'è realmente il bias nel trading quindi se vuoi dire due parole io sono il primo ad ascoltare sul bias ok 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 perfetto sì allora il discorso è molto semplice l'idea appunto di adottare le strategie bias deriva sostanzialmente dal fatto di dover lavorare su un orizzonte temporale molto breve quando parlavo all'inizio di combinare strumenti di analisi tecnica con analisi quantitativa qui entrano in gioco appunto le logiche legate proprio all'individuazione di questi bias ovvero di queste inefficienze perché perché sostanzialmente quando andiamo a lavorare su orizzonti molto brevi è molto importante cercare di capire se lo strumento che stiamo tradando presenta delle inefficienze e quindi insomma ecco delle caratteristiche sostanzialmente che il mercato tende a mostrare in maniera ripetitiva ok con una certa ripetitività magari nel corso di determinate ore della giornata o nel corso dei determinati giorni della settimana per andare a individuare i bias di uno specifico strumento io utilizzo questo software che si chiama forecascycle.com ed è un software che appunto permette di andare a cercare per ogni singolo sottostante di andare a vedere per ogni singolo sottostante quelle che sono le caratteristiche di un determinato strumento qui ad esempio se io seleziono dal menu a tendina il DAX future che cosa noto noto che ad esempio qui viene diciamo fatta mostrata una media viene costruita una media diciamo ecco di tutto di quello che è il movimento medio fatto dal DAX all'interno dell'ottava di trading e ad esempio su base settimanale quello che si nota è che non tutti i giorni della settimana hanno la stessa probabilità di chiudersi con un rialzo perché ad esempio quello che si nota proprio in prima battuta a colpo d'occhio è come il martedì sia statisticamente il giorno più forte di tutta la settimana quindi la giornata di martedì sia a livello diciamo probabilistico quella dove ad esempio andare a cercare con maggior confidenza le operazioni lato long perché il martedì c'è un evidente bias long su questo strumento ma io da qui posso anche andare a fare un'altra cosa togliendo diciamo il flag al separate weekdays posso andare a vedere non solo quello che è il comportamento del DAX mediamente nel corso della settimana ma posso anche andare a vedere qual è il comportamento medio del DAX all'interno di una singola sessione e quello che viene fuori poi qui la faccio molto breve ma diciamo ecco nella pratica viene fatto diciamo uno studio statistico un pochino più approfondito cercando di andare a selezionare delle delle time window diverse e quindi cercare di capire se poi c'è una certa persistenza di questo bias però anche qui quello che si nota colpo d'occhio è come sostanzialmente questo tipo di mercato tenda ad avere un bias rialzista nel corso delle ultime ore della sessione ad esempio quindi se durante diciamo ecco quella che è l'apertura della sessione cash il mercato non tende a non mostrare una direzionalità marcata e invece dopo la chiusura della sessione cash europea quindi dopo le 17.30 questo mercato tende ad esempio a mostrare diciamo una tendenza marcata alla salita e queste sono tutte caratteristiche che possiamo sfruttare non solo diciamo su sull'azionario ma anche ad esempio sulle commodities ad esempio se andiamo a vedere diciamo quello che è l'andamento diciamo del crude oil e su questo abbiamo costruito diciamo diverse diverse strategie sul crude oil quello che si osserva è un andamento piuttosto piuttosto marcato diciamo lato debolezza nelle prime ore di contrattazione dopodiché invece appunto questo tipo di mercato tende a invertire e a mostrare invece di contro un bias rialzista nella seconda parte diciamo della sessione europea e quindi a partire dalle ore 17.30 in poi tanto per capirci italiani e quindi queste sono tutte caratteristiche che se diciamo ecco noi andiamo a sfruttare e sfruttare caratteristiche di questo tipo che cosa significa significa chiaramente non andare tutti i giorni a vendere il crude oil alle 10 di mattina per poi andarlo a ricomprare dopo le 17.30 ok non è questo che facciamo però chiaramente andiamo a costruire delle andiamo a costruire delle strategie che combinando appunto quelli che sono i bias appunto che osserviamo su questi mercati combinandoli con gli strumenti dell'analisi tecnica classica come potrebbero essere appunto un segnale reverting magari una banda di Bollinger ok per avere un segnale reverting di questo tipo oppure come avevamo visto prima sul DAX andare a cercare diciamo un filtro trend following per magari impostare un'operatività long a partire dalle 17.30 ma solo e soltanto chiaramente se il mercato mostra una evidenza long che può essere dettata da non so un particolare indicatore un super trend diciamo o altri strumenti diciamo di questo tipo quindi questo è quello che sono andato a fare diciamo e questa è l'operatività tipica appunto delle delle mie strategie metto dentro anche il discorso diciamo legato alle strategie seasonal dove anche qui per seasonal non si intendono diciamo strategie che magari entrano long o short in determinati mesi dell'anno a seconda della stagionalità ma quando si parla di di stagionalità anche qui io mi riferisco sempre all'intraday seasonal e quindi questo che cosa significa codificare delle strategie che magari ecco non tanto per per farla breve non vanno long e short tutti i giorni della settimana ok ma magari ecco in alcune giornate potrebbe essere inibito lo short in altre tante giornate potrebbe essere inibito il long proprio perché sappiamo che a livello statistico non tutte le giornate hanno la stessa tendenza favorevole ai rialzi o ai ribassi diciamo questo è un pochino il il concetto spero Fabrizio di essere stato chiaro io ho delle domande per te però non so se presentartele in seguito perché riguardano proprio i pacchetti tra i nostri ospiti già si sta andando sul tuo sito per vedere le varie strategie ne vogliamo parlare dopo oppure ti ti faccio questa domanda già adesso io forse direi che continui con la tua presentazione e poi spieghiamo come accedere ai pacchetti che expert servono quanti conviene averne ecco così chiariamo tutto per tutti alla fine ok ok va bene quindi qui vi faccio vedere un po' di statistiche poi faccio anche vedere chiaramente le statistiche della di una delle challenge diciamo che ho superato una delle prime tra l'altro tanto per farvi capire diciamo ecco che si è utilizzato un approccio come detto multi market ma anche multi strategia questo ad esempio è una strategia reverting su euro dollaro costruita appunto sulla base di un indicatore proprietario che cerca di captare diciamo quelli che sono i punti di svolta del mercato e il fatto che sia una operatività reverting la vedete ad esempio analizzando le metriche vedete che c'è una percentuale di profitto che supera il 65% e quindi questo è quello che tipicamente accade quando si va a lavorare con delle strategie di questo tipo ovvero si ha tra virgolette ragione una percentuale molto alta vedete che mediamente ogni trade guadagna circa 590 euro e poi invece nella diciamo nella percentuale minoritaria che è quella appunto nelle quali si affrontano dei trade in perdita vedete che la percentuale diciamo o meglio chiedo scusa la media diciamo delle perdite leggermente superiore alla media appunto delle operazioni chiuso con profitto però come detto possiamo contare su una percentuale di profittabilità piuttosto alta questa ad esempio è una strategia che resta a mercato anche overnight quindi può aprire delle operazioni appunto anche qui in determinati giorni in determinate ore della settimana sempre avendo al suo interno una logica comunque che include i bias chiaramente in questo caso su euro-dollaro perché va detto che anche euro-dollaro è un mercato dove troviamo dei bias quindi delle inefficienze ben definite però qui diciamo ad esempio c'è un filtro di uscita ben preciso ovvero diciamo questo sistema chiude tutte le posizioni al venerdì sera in chiusura quindi tutte ogni diciamo venerdì poi ogni lunedì ogni ottava di training riparte viene resettata e quindi tutte le posizioni in essere vengono chiuse qui ad esempio invece vediamo un'altra strategia questa è una strategia che per quanto riguarda le challenge ci ha dato grosse soddisfazioni è una strategia sul DAX e in questo caso invece è una strategia in trend following è una strategia che sfrutta l'opening range breakout nel senso che è una strategia che lavora sui breakout di prezzo ma anche qui soltanto in determinate ore della giornata e quindi tanto per capirci si aspetta la formazione di un determinato box di prezzo se poi questo determinato box di prezzo viene violato in determinate fasce orarie si entra appunto in breakout breakout che è appunto la logica base delle strategie di tipo trend following questo invece è un sistema ancora diverso sul gold sul gold qui avevamo un sistema bias e un sistema trend following il sistema bias è anch'esso un sistema che sfrutta le caratteristiche di questo strumento ovvero il il gold future perché anche questo diciamo è uno strumento che mostra due bias in realtà diciamo ben definiti all'interno della sessione perché è un mercato diciamo che tende ad avere un inizio di tende a mostrarsi debole in in avvio di sessione europea e poi invece è un mercato che tende di contramostrare una tendenza positiva nella seconda parte di di sessione e quindi anche qui c'è chiaramente come detto un filtro diciamo per escludere da diciamo per non andare a operare tutti i giorni diciamo short al mattino e long al pomeriggio ci sono chiaramente dei filtri per escludere ad esempio i long quando il trend è marcatamente short perché insomma come detto lo ripeto lo ribadisco per inciso non è che tutte quante in tutte quante le sessioni voi andate ad osservare una tendenza short al mattino e long al pomeriggio però diciamo ecco se già dall'apertura ad esempio il mercato si mostra debole mediamente ripeto qui parliamo di dal 2008 al 2024 quindi oltre 20 anni di osservazioni questo mercato diciamo ha restituito delle caratteristiche questo ripeto non sono proiezioni sono statistiche quindi quello che veramente ha fatto il mercato all'interno appunto della singola sessione di training mediando tutti i movimenti a intervalli di 15 minuti quindi questa è la modalità con il quale sono stati sono stati costruiti questi grafici però ecco come detto utilizzando appunto avvalendoci di filtri per escludere appunto quelle situazioni nelle quali il mercato si mostra diciamo ad esempio marcatamente long in apertura è chiaro che se il mercato diciamo ecco si mostra marcatamente rialzista in apertura diciamo non si va a entrare long nella nella mattinata europea e lo stesso discorso diciamo se si osserva debolezza nella seconda parte di di sessione quindi anche qui stesso discorso per quanto riguarda magari finisco con il gold ad esempio per quanto riguarda il gold come detto avevamo una strategia trend following unita ad una strategia bias ad esempio la strategia trend following è una strategia costruita con il canale di Donkian canale di Donkian che insomma molti di voi conosceranno e quindi è uno degli strumenti diciamo anzi più conosciuti per andare diciamo a cercare dei segnali di tipo trend following perché il canale di Donkian non fa altro che costruire diciamo sostanzialmente un canale un canale che contiene i massimi e i minimi di un certo numero di barre e poi chiaramente quando si osserverà la rottura su dell'estremo superiore o inferiore di questo canale anche qui all'interno diciamo di determinate fasce orarie allora questo diciamo ecco significa che il mercato a quel punto avrà maggiori probabilità di proseguire appunto nella direzione della rottura e quindi qui andiamo a impostare appunto e ad entrare a mercato cercando appunto di sfruttare questi break di volatilità ad esempio il donkian è una strategia intraday quindi il sistema può aprire anche qui le posizioni entro un determinato range orario però comunque sia a fine sessione chiaramente io posso andare diciamo o a target oppure in stop oppure può scattare il trailing stop perché dopo un certo numero di punti di movimento lo stop in questo caso come spesso accade alle strategie trend following viene spostato a zero quindi l'operazione può essere chiusa o a stop o a target o a zero oppure chiudersi ad un determinato orario perché come detto qui non andiamo in overnight con questa strategia e quindi tutte le posizioni vengono chiuse entro la fine della sessione canali di donkian che ad esempio è uno strumento molto valido anche per quanto riguarda l'utilizzo sul DAX riesce a dare degli ottimi segnali sia in acquisto che in vendita anche su questo sottostante e quindi anche sul DAX avevamo una strategia di questo tipo questo invece sul crude oil dove anche qui abbiamo affiancato vedete come ritornano quei concetti dei quali vi parlavo all'inizio le strategie bias sono delle strategie ad esempio che prescindono un po' dalla volatilità sono delle strategie che sono in grado diciamo ecco di reggere il mercato anche quando lo stesso non si mostra marcatamente direzionale ok quindi ad esempio sono strategie che riescono a sopportare appunto quelle fasi di mercato laterale mentre invece ad esempio delle strategie di tipo trend following vanno comunque sempre inserite all'interno di un portafoglio di trading perché poi sono quelle appunto quelle strategie per le quali la posizione diciamo viene aperta e viene mantenuta finché il mercato mostra evidenza di trend long e sono quelle poi che ci portano a casa appunto quegli importanti gain che ci permettono appunto di superare le challenge prima di passare alle domande chiudo con ad esempio questa che è una strategia diciamo sul Nasdaq e anche questa diciamo ecco sul Nasdaq una strategia diciamo di tipo trend following su questo mercato che comunque rispetto ad esempio al Dow Jones o all'SP500 che hanno diciamo delle caratteristiche che magari anzi sicuramente hanno delle caratteristiche più inclini a delle strategie reverting invece il Nasdaq ha un carattere un pochino più particolare diciamo che lo rende adatto anche per delle strategie trend following poi vabbè magari diciamo mi fermo un attimo poi faccio qualche cenno al money management utilizzato per le strategie se sei d'accordo Fabrizio sì sì volentieri allora in pratica le domande abbiamo visto tutte strategie con equity line impressionanti di sicuro per sia per il passaggio che per la gestione di conti funded diciamo che c'è pane per i nostri denti quindi bisogna capire e queste erano le domande la domanda fondamentale che abbiamo in chat come queste strategie devono essere combinate è necessario averne più d'una secondo te e soprattutto appunto come accedere a questi a questi strumenti sì allora beh come detto questo ad esempio è proprio il conto che poi vabbè chiaramente passata la challenge diciamo è stato cioè non è stato più utilizzato e qui ad esempio vedete come sono state inserite diciamo tutte le strategie che abbiamo visto qui tra l'altro si possono vedere diciamo andando indietro anche gli eseguiti man mano che sono stati fatti quindi questa ad esempio la strategia di tipo reverting la vedete qui questi sono tutti gli eseguiti la strategia reverting questa su su euro dollaro vedete che ad esempio va a cercare i punti diciamo e a lavorare sui punti di inversione quindi qui vedete proprio come dire tutti gli gli arnesi del mestiere all'opera sul conto appunto che vi farò vedere tra poco che è quello diciamo che ha superato le challenge qui ad esempio vedete la strategia sul DAX di tipo trend following vedete comunque le posizioni diciamo ecco non vengono mai tenute a mercato per troppo tempo perché comunque lo vedete qui i time frame su cui andiamo a cercare i nostri segnali di trading sono tutti time frame a 30 minuti 15 minuti addirittura 5 minuti ok e quindi sono tutti time frame diciamo di breve termine e sui quali diciamo poi non ha molto senso andare a cercare di mantenere il segnale per troppo tempo perché chiaramente un certo tipo di segnale insomma su un orizzonte diciamo M30 non ha una valenza che tipicamente può superare la settimana o i dieci giorni ad esempio è molto diverso se noi invece andiamo a cercare un segnale sul quattro ore o sul giornaliero dove a quel punto su questo Fabrizio penso che ci sia poco da aggiungere è un segnale che avrà una valenza diciamo in ottica settimanale o mensile ad esempio quindi lavorando invece su time frame molto brevi chiaramente la valenza dei segnali sarà diciamo comunque di breve termine quindi per questo motivo non avrete mai posizioni che vengono diciamo ecco aperte o meglio che vengono protratte oltre l'ottava diciamo ecco di trading quindi allora per quanto riguarda quindi ripeto l'utilizzo diciamo ecco dei pacchetti sicuramente il mio consiglio è quello di non affidarsi mai a una singola strategia e quindi nei pacchetti che offriamo noi per superare le challenge chiaramente sono comunque pacchetti molto simili a quelli che che abbiamo visto oggi e quindi diciamo ecco dei pacchetti che permettono dei pacchetti di sistemi che permettono di avere una diversificazione piuttosto elevata e quindi ecco giusto per giungere al clou queste sono le metriche del del conto diciamo ecco di uno dei primi conti diciamo dove siamo riusciti a superare appunto le challenge di the trading pit e quando vi parlavo prima di resilienza resilienza vedete che cosa significa significa che vi ricordate quando ancora diciamo ecco il rally di natale ora come dire siamo al 16 di gennaio e tutti abbiamo visto come dire la potenza del rally di natale che si è sviluppato ma quanto sono stati difficili Fabrizio quelle giornate di trading prima diciamo ecco di vedere questo questo trend partire giornate nelle quali appunto il mercato non non mostrava diciamo direzionalità non andava da nessuna parte in quei contesti lì avere diciamo un paniere di strategie diversificato che ti permette di tenere botta che ti permette di contenere il drawdown è fondamentale perché poi i break di volatilità arrivano e arrivano appunto anche diciamo ecco le soddisfazioni nell'andare a utilizzare la parte più importante che sono le strategie trend following ok e lo vediamo qui qui ad esempio vedete che con un account da 100k sostanzialmente il punto più basso che abbiamo toccato sia in termini di balance che in termini di equity è stato 97.500 euro ok addirittura siamo riusciti a superare la challenge rimanendo all'interno dei 90 giorni quindi con 8 ancora giorni di training diciamo disponibili e quindi ecco tanto per farvi vedere anche qui le metriche discorso legato al money management notate come il best trade è stato un trade da 7650 dollari mentre il trade peggiore è un trade che ci ha fatto perdere tra virgolette soltanto 2160 euro ok questo perché chiaramente in ottica diciamo ecco di money management sappiamo che quando il mercato ci dà contro è una regola veramente banale è una regola stupida ma è così quando il mercato ci dà contro bisogna contenere le perdite quando il mercato invece va nella direzione appunto della nostra operazione dobbiamo essere bravi a mantenere diciamo i nervi saldi e a mantenere l'operazione al mercato questo è quello che riusciamo diciamo a mettere in pratica con i trading system in pratica sei rimasto proprio ampiamente dentro i parametri di rischio di the trading pit sia sul giornaliero che sul massimo drawdown vedo con dopo che ci hai fatto vedere queste metriche quindi non si è rischiato assolutamente di di rovinare la challenge e questo proprio dipende dalla diversificazione e poi dai settaggi che insomma Filippo ha fatto su questi strumenti e ripeto lui me ne ha parlato ampiamente quando ci siamo incontrati a Roma me li ha fatti vedere a video mi ha fatto provare posso posso dire che confermo la bontà di questa di queste strategie che appunto poi lui usa anche per gestire i suoi conti insomma è strumentazione che vi può aiutare a comportarvi a mercato in modo professionale per qualsiasi sia la vostra esigenza stasera vi ha mostrato che è possibile usare questi strumenti anche sulle prop in particolare sulle trading pit c'è Neri che chiede che dice che se lui può prendere uno o due tre pacchetti e superare una challenge è super interessante Filippo tu pensi che con due o tre pacchetti si può si può operare sì beh due o tre pacchetti diciamo non so che cosa che cosa si intende nel senso che un per quanto ci riguarda diciamo ecco la mia idea è quella comunque di offrire delle dei pacchetti che già includano una soluzione estremamente variegata di strategie e estremamente diciamo ecco diversificata sia in termini di asset sia in termini appunto di di tipologie di strategie da utilizzare quindi diciamo ecco che l'idea è quella di fornire dei pacchetti che comprendano già otto dieci strategie e quindi di dare già una soluzione che sia quanto più possibile adatta per superare diciamo ecco le challenge anche perché diciamo al di là poi del del discorso legato al fatto che andando a crescere diciamo il capitale quindi chiaramente questo dobbiamo dirlo con la challenge da 100k riusciamo ad avere una diversificazione migliore rispetto diciamo a quello che possiamo fare ad esempio con la challenge di 20k perché perché il rischio qual è è andando ad operare diciamo con un pacchetto ripeto di almeno otto dieci strategie e poi c'è il rischio che anche andando chiaramente a pesare in maniera equa le strategie all'interno del nostro portafoglio però se ci dovessimo dovessimo incontrare la condizione per la quale quasi tutto meglio buona parte delle strategie dovessero entrare a mercato simultaneamente allora il margine diciamo eroso sarebbe importante e diciamo ecco potremmo andare potremmo correre il rischio non dico diciamo ecco di vederci chiuse delle posizioni per mancanza di margine però magari ecco quello di non poter aprire di avere appunto delle nuove operazioni inibite da altri sistemi per mancanza di margine anche se fin qui non è accaduto però diciamo è un'eventualità che io personalmente non vorrei evitare e quindi ecco da qui l'idea di andare diciamo ecco a fare delle soluzioni ponderate sulla base di quella che è la dimensione del conto sulla quale si va a operare quindi challenge da 100k si riesce a fare la massima diversificazione e si riesce diciamo ad adottare delle sites tali da minimizzare praticamente questo rischio con appunto le challenge più piccole diciamo ecco dobbiamo per forza di cose adottare un numero inferiore di strategie e lavorare diciamo ecco con delle sites minori proprio perché con gli importi con importi minori diciamo questo rischio aumenta quindi tutto qui è solo questo è il discorso però ripeto l'ultima cosa che volevo aggiungere per quanto riguarda parlavo prima ormai siamo in chiusura ma giusto qualche cenno riguardo al money management per inciso nessuna delle strategie che avete visto lavora con logiche di tipo a martingala questo questo voglio essere piuttosto chiaro e categorico non vedrete mai in nessuno dei miei sistemi delle logiche di questo tipo delle logiche per le quali le operazioni in perdita vengono mediate e quindi si va a mediare al ribasso nella speranza passatemi il termine che poi ad un certo punto il mercato finalmente inverta la rotta e si riesca a chiudere in positivo perché personalmente non ritengo che questa sia una logica diciamo da adottare mai al di là delle prop ma anche proprio per la gestione di un qualsiasi conto di trading poi ognuno per carità fa ciò che vuole vende i servizi i prodotti che vuole ma personalmente non ci credo non ritengo che sia la maniera giusta per affrontare i mercati di contro invece quello che quasi tutti i sistemi hanno è una logica contraria ovvero una logica di tipo anti martingala ovvero una logica per la quale diciamo come questa è matematica sostanzialmente man mano che il capitale cresce io vado posso in certi casi andare ad aumentare la mia esposizione al mercato ma se il mio capitale diminuisce io vado a diminuire la mia esposizione al mercato ok perché perché se il mio capitale decresce vuol dire che la mia strategia diciamo non sta non è in linea con quella che è la fase di mercato attuale allora io in quel caso cerco di un attimino preservare il mio capitale non vado a aumentare l'esposizione vado a diminuirla ok è una logica però anche qui che mi permette di contenere molto di più il drawdown mi permette di contenere molto di più le perdite non è l'unica strategia di money management chiaramente che viene utilizzata perché ad esempio altri sistemi lavorano con un'esposizione variabile ad esempio in base a quella che è la volatilità del mercato oppure un'esposizione variabile in base a quella che è la la variazione diciamo in termini di punti del sottostante quindi la quotazione proprio del sottostante ce ne sono diverse logiche alcuni magari diciamo più comuni altre meno però diciamo ecco c'è tanto lavoro dietro e c'è tanto insomma ecco di in ottica di know-how che è stata messa in pratica per costruire diciamo un portafoglio di questo tipo perfetto allora Filippo direi di rispondere alle ultime domande per chiarire proprio come accedere a a questi a questi strumenti allora innanzitutto c'era un un appunto da parte di Antonino che diceva che appunto la strategia messa in campo per passare la challenge ha funzionato nell'ultima parte io sono abituato di recente ho fatto alcuni passaggi con expert e nel mio caso l'expert che ho utilizzato era settato in pratica per riuscire a passare con un piccolo numero di trade però poi tutto in una volta immagino che dipenda dai settaggi come si comporta nel tempo l'expert advisor giusto e allora o nel tuo caso è un po' diverso allora questi sono sistemi come abbiamo visto prima sono sistemi diciamo ecco che sono stati costruiti cercando diciamo ecco di come dire tra virgolette interpretare quello che è il carattere del sottostante ok e quindi assecondare quella che è la natura del sottostante sono chiaramente delle strategie che per le quali non si riesce ma su questo penso non credo che vi siano delle strategie tali da riuscire a dare un tot di gain al giorno tutti i giorni tutti i mesi e quindi riuscire diciamo ad avere quelle equity line perfette che si vedono ogni tanto in giro che però sono o farlocche o frutto come detto di strategia martingala tali che i gain vengono contabilizzati subito le perdite vengono lasciate a mercato e quindi diciamo poi si riesce diciamo con questo tipo di operatività a mascherare le magagne se va bene poi l'equity line ha un certo aspetto perché diverse piattaforme appunto non tengono conto del drawdown non realizzato ecco qui secondo me quello che è importante sottolineare e si vede molto bene di come c'è anche il fatto che le strategie non siano delle strategie diciamo rischio cioè estremamente rischiosa a martingala lo si vede dal fatto che forse i più diciamo ecco i più l'avranno notato che qui tu vedete la linea del balance e la linea dell'equity la linea del balance è sostanzialmente sovrapponibile alla linea dell'equity la linea dell'equity vi dà l'andamento del conto a posizioni aperte il balance vi dà l'andamento del conto a posizioni chiuse quando voi trovate una forte discordanza tra queste due linee quella la fucsia e la bianca allora significa che avete a che fare con delle strategie di tipo martingala che di contro è come giocare alla roulette rosso e nero rosso ok mi va bene nero ok mi va male ma è 50 e 50 forse anche peggio con strategie di questo tipo ripeto non è che riusciate ad avere diciamo un tot di gain ogni giorno e quindi vedere una crescita costante del conto giorno per giorno questo no ma ripeto non so quale poi strategia o paniere di strategie ci possa riuscire però quello che potete riuscire a fare è ripeto ad avere comunque una resilienza costante del conto e poi quando effettivamente diciamo ecco queste strategie funzionano vi basta veramente poco vi basta una fiammata del mercato e voi riuscite diciamo a portare a casa la challenge questo è un po' il discorso perfetto quindi più o meno come avevo interpretato e allora c'è una domanda ancora per chiudere con le richieste di neri quindi in un solo pacchetto di trading di trading facile ad esempio Ulisse ci sono 8-10 strategie comprese allora Ulisse è un sistema ok poi diciamo ecco quello che si vede sul sito ad esempio magari ecco andiamo a vedere ecco questo ad esempio è un insieme diciamo ecco non sono tutti sono alcuni diciamo ecco dei sistemi che abbiamo diciamo ecco in pancia e quindi andare a fare un paniere di 8 strategie significa ad esempio scegliere tra 8 di questi sistemi ok poi ce ne abbiamo tantissimi quindi si può fare diciamo una una diversificazione ampia personalmente diciamo ecco quello che ho fatto è per quanto riguarda the trading pit è ad esempio selezionare proprio perché comunque sia tu sei benissimo Fabrizio che ci sono diciamo dei criteri diciamo particolarmente stringenti per quanto riguarda queste questo tipo di challenge eccetera io quello che sono andato a fare è stato selezionare un paniere diciamo ecco di una quindicina grosso modo di strategie 15 16 forse anche qualcuna in più e sono queste quelle che ritengo maggiormente adatte per le challenge dei trading pit e sono queste all'interno di queste strategie che sono andato a scegliere quelle che poi ho messo in campo per andare a superare le challenge ok allora diciamo in ogni caso la cosa più importante è che come vedete su trading facile grazie a Filippo trovate una grande quantità di soluzioni e quello che dovete fare se siete interessati è chiedere appunto a Filippo una consulenza e lui immagino vi ha già dato i suoi contatti adesso li rimetteremo di nuovo a video potete contattarlo e spiegare a Filippo qual è la vostra esigenza qual è la prop che state usando o se volete provare ad utilizzare dei trading pit e lui avrà risposte sulla base dei parametri ai quali vi dovete sottoporre per cui non necessariamente appunto dei trading pit il trading pit è la prop di cui parliamo stasera ovviamente io la rappresento per l'Italia però in generale Filippo ripeto ha soluzioni per trader trader che hanno bisogno di un supporto con l'automatizzazione quindi vi potete rivolgere a lui per qualsiasi esigenza di trading abbiate anche per il vostro conto retail questa non è una cosa da escludere naturalmente quindi io vi invito a contattarlo per 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 farvi fare una consulenza e poi sarà sarete voi due insieme a trovare la soluzione che può può fare al caso vostro quindi io non mi aspetterei questa sera una risposta comprate un due tre e siete siete a posto così perché appunto sminuirebbe anche la professionalità di tutto il lavoro di Filippo che ripeto può darvi soluzioni molto ma molto interessanti per tutte le vostre esigenze quindi io contatterei lui prenderei un appuntamento e esporrei il mio caso per vedere come Filippo con trading facile vi può essere utile ok e per quanto riguarda poi la domanda di Mario se usiamo tutti questi pacchetti non entriamo in copy trading bene anche qui le prop tendono a doversi difendere da comportamenti abusivi e quindi molte prop hanno una regola di copy trading e l'expert è solitamente quello che più facilmente incappa in questa violazione ok e naturalmente diversificando gli strumenti in termini di expert e poi i simboli sui quali si opera il rischio di incorrere nel copy trading si riduce notevolmente quindi anche anche questa è una cosa che va discussa con con Filippo e quindi io vi invito a fare questo perché ripeto ci sono tanti produttori di expert advisor e come vi diceva lui ma per la mia esperienza insomma più di dieci anni in questo settore proprio del trading online la maggior parte degli expert sono strumenti che vi portano a alle piramidazioni alle martingale anti martingale quindi estremamente speculativi e solitamente senza l'aiuto senza un monitoraggio costante quello che fanno è bruciare i conti diciamoci la verità qui invece c'è un lavoro di una statura molto diversa cioè gli strumenti di Filippo sono tanti proprio perché consapevole di come lavorano possono lavorare gli expert sa bene sapeva bene di dover creare un mix di strategie per una gestione professionale davvero cioè gli strumenti di Filippo potrebbero essere utilizzati per gestire fondi e con una certa tranquillità perché lui è molto attento al money management è molto attento all'aspetto del rischio in generale quindi è una persona da conoscere con cui confrontarsi perché potrebbe avere davvero quello che cercate specialmente se siete persone che non hanno la possibilità di stare come me sfortunato 12 ore al giorno davanti al video ho detto bene Filippo? si si hai detto no no hai detto benissimo non cioè non mi sento di aggiungere nulla davvero quindi sei stato più che più che esaustivo quindi ecco per qualsiasi informazione poi tutti i contatti li trovate c'è anche la la chat sul sito anche se siamo offline potete lasciare un messaggio insomma ecco verrete comunque ricontattati quindi strumenti diciamo per contattarci li avete tutti io ma ecco magari l'ultima cosa che posso fare se qualcuno ecco fosse interessato diciamo ecco al software anche al software che abbiamo visto prima per l'innevitazione di bias vi lascio un codice che è liberamente utilizzabile un codice del 10% con il 10% di sconto vi basterà inserire fc10 off e quindi avrete diciamo una scontistica sugli abbonamenti a questo sito che insomma ecco è come detto è il sito che io utilizzo non l'ho sviluppato io quindi non però diciamo ecco lo ritengo particolarmente valido per tutti coloro che vogliano approcciare diciamo ecco al mondo della della stagionalità poi qui di statistiche ce ne sono tantissime ci sono tantissime sezioni poi trovate anche le guide che vi spiegano come diciamo cosa fa ogni singola sezione le informazioni che trovate e quindi ecco un bonus liberamente sfruttabile riservato a voi che diciamo avete partecipato a queste eventi quindi siete stati con noi questa sera poi per quanto riguarda i sistemi come detto ci potete tranquillamente contattare via mail oppure appunto via telefono o sfruttando i nostri canali social perfetto Filippo io ti ringrazio tantissimo per questa presentazione è veramente un privilegio che abbiamo iniziato questa collaborazione trading pit e io personalmente siamo contentissimi e da ultimo proprio suggerisco perché in questo settore conoscerci è una cosa molto importante confrontarci di contattare Filippo e vedere un po' cosa può fare per voi perché come vedete non c'è che da scegliere sulla base delle vostre esigenze questo webinar verrà pubblicato sul canale youtube di trading pit a breve nei prossimi giorni quindi potrà essere tranquillamente rivisto grazie a tutti per avere partecipato avere accettato il nostro invito per questa sera e grazie ancora Filippo grazie a te Fabrizio e grazie a tutti coloro che sono stati con noi questa sera un abbraccio buona serata e buon trading a tutti buona serata grazie a tutti